ciao a tutti buona sera penso sia tutto a posto benvenuti per questa diretta della domenica pomeriggio sera siamo insieme un'ora e mezza fino alle 8 si sembra tutto funzionare ciao emanuela benvenuta come sempre ringrazio te che sei qui che rimani con me per questo quanto ci stai o se stai tutta l'ora e mezza tu che stai guardando la diretta indifferita e ovviamente come sempre bridges of light ponti di luce per darci l'opportunità di interagire e di di parlare di trattare argomenti che possono veramente veramente cambiare la vita ciao marina ciao benvenuta ciao emanuela si grazie buon pomeriggio anche a te ciao valeria buona sera ciao ciao giuliana buona domenica a tutti buona domenica a tutti aspettiamo come sempre qualche momento intanto mentre aspettiamo ci tengo a farvi sapere che dopo la diretta di venerdì sera leggo sempre i commenti e ci sono due commenti che voglio menzionare uno è quello di diamante che scrive a tutto ciò che hai proposto e spiegato è stato molto interessante utile personalmente mi piacerebbe che una volta tu approfondissi il concetto di cui hai parlato poco fa puntini puntini il sentire a livello vibrazionale diamante ti ringrazio per questa richiesta non so se ci sei questa sera con noi o se sentirai questa diretta comunque in luce di questo sì ho deciso e qui perché i titoli di questo mese di luglio li ho già tutti consegnati però da non so se facciamo dirette come funzioni qui se agosto settembre comunque il prossimo ciclo sì una serata faremo parleremo di delle vibrazioni pensavo un titolo ipotetico potrebbe essere vivere vibrazionalmente con e oltre le emozioni ok e parleremo solamente di vibrazioni poi ciao baba ciao roberta benissimo sei bravissimo grazie grazie chiara benvenuta grazie ciao mirella ciao mirella ciao clemente benvenuto e e poi volevo anche parlarvi di oh benissimo c'è tanti che scrivete fantastico ciao valeria ciao francesco buonasera a tutti dice francesco a diamante ci sei comunque ti dicevo ti dico di in diretta proprio fantastico grazie si faremo una una diretta dove parleremo di vibrazioni sarà una una vibrazione unica ciao angela ciao maria grazia ciao doratella buonasera buon pomeriggio grazie davanti perfetto ti ringrazio ciao vania e poi volevo anche menzionare un'altra cosa perché leggendo i commenti mi sono accorto che avevo risposto in un modo che vorrei chiarire cioè per farla breve io non so chi di voi adesso non c'era la diretta di venerdì sera beh vi consiglio se vi andasse di risentirla dove parlavamo di delle dinamiche delle simmetrie con le simmetrie nascoste della vita e per farla breve si parlava di quando si parlava del fatto che noi stiamo tra virgolette sempre inconsciamente ciao silvia stiamo proiettando dei diciamo dei nostri copioni passati o comunque insomma le nostre aspettative quello che noi crediamo degli altri della vita gli altri in un senso diventano gli attori di queste nostre diciamo proiezioni di queste nostre convinzioni ed è quello uno dei motivi per i quali a volte si creano dei conflitti perché noi abbiamo dei preconcetti negativi riguardo ad altri e gli altri ce li fanno vedere vibrano ecco proprio vibrano in risonanza con questi nostri preconcetti e evania mi chiedeva luca ma questo atteggiamento avviene a livello inconscio punto interrogativo penso di cui penso che di queste situazioni siano all'ordine del giorno ci tengo a chiarire e io avevo risposto si agiscono a livello inconscio poi rileggendo adesso è qua che voglio dire ripensandoci queste dinamiche possono sì essere inconsce e lo elen ciao possono sì essere inconsce ma non sempre ci tengo a sottolineare per cui evania secondo me sono possono anche essere consce e vi faccio un esempio quando noi sicuramente quando io lavoro con le persone ma anche tutti noi quando interagiamo con qualcuno noi possiamo scegliere intenzionalmente per cui ne siamo consci di dare fiducia di credere nella persona con la quale ci stiamo relazionando e questo di solito lo facciamo quando la persona con cui ci relazioniamo deve superare un problema o comunque in uno stato diciamo di sconforto in quel caso noi sì che proiettiamo e lo facciamo proprio io lo faccio quando lavoro ovviamente intenzionalmente devo perché voglio proprio risuonare a livello vibrazionale con la parte fiduciosa che oserei dire va oltre la fiducia ma quella parte organica vera pura capace della persona con cui mi relaziono per cui non sempre queste dinamiche sono inconsce sono consce quando noi sappiamo quello che scegliamo di credere per cui di proiettare quando vogliamo stimolare ecco qualcuno e vediamo e sappiamo che questo è importante per quello voglio sottolinearlo se noi vogliamo aiutare qualcuno in difficoltà non lo aiutiamo o l'aiutiamo se noi siamo i primi a preoccuparci se noi siamo i primi a non credere che ce la possono fare per cui se in dubbio io vi consiglio sempre di credere e qui che la fede con le f capitali entra in gioco anche se non credete a livello umano nella persona con cui vi relazionate vi invito veramente con tutto il cuore di avere fede nella vita stessa proprio in forze energie che non si vedono ma ci sono che potrebbero e vi assicuro possono aiutare la persona ma è più facile che l'aiutino se noi facciamo da conduttori se noi agiamo da diciamo d'antenne che potenziano questa fiducia spero di essermi spiegato per cui sì noi possiamo anche attivare queste dinamite consciamente non sempre sono inconsce e poi comunque ovviamente quando noi scegliamo il nostro stato mentale emotivo e attitudinale diventiamo consci di quello che stiamo facendo allora volevo aspetta un attimo volevo leggere non riesco a che gli altri commenti se ce ne sono ok ciao grazie a benvenuta e poi partiamo con l'argomento di oggi ciao simo ciao lucia emanuela dice scusami tu tieni corsi per diventare counselor counseling olistico emanuela chiede sì sì non io personalmente io insegno faccio parte della scuola metafisica facciamo corsi in inglese per ora il core il foundation course quello di fondazione poi quello anche dei praticanti partono però prima di fare il foundation course che dura 24 settimane che sono tipo otto mesi e poi quello per diventare practitioner che dura circa un anno allora se ci fosse interesse qui in italia che di farli io potrei infatti ne abbiamo già parlato io potrei tradurre il materiale è già quasi tradotto comunque lo posso posso finalizzare tutto e potrei proporlo e sì sarei io a farlo qua in inghilterra siamo in tre o quattro insegnanti dipende certi siamo quattro a quello dei praticanti siamo in tre due o tre qui in italia sì ci sarei io se ci fosse richiesta lo faccio se non c'è richiesta ovviamente no però emanuela se tu fossi interessata e se altre persone se siete interessati io sì si può fare al momento non lo propongo perché in effetti se non c'è richiesta non no in italiano no in inglese sì allora ciao katia ciao elena ciao cinzia ciao giovanna ciao micaela ciao mia buona domenica grazie ciao laura emanuela dice io sì ok vorrei tanto sì è chiedi ma adesso vediamo tra il gruppo io non so chiedo a gaetano perché a quanto pare qua non è che possiamo parlare troppo o così mi è stato detto di quello che facciamo a meno che non ci intervistino però sì se ci fosse richiesta assolutamente chiedimi magari o contattatevi sulla mia pagina di facebook personale e sì comunque sì in italiano non ancora in inglese sì ma adesso iniziamo a parlare dell'argomento di questa sera che anche qua di tutte le volte mi trovo a dire che mi sta molto a cuore mi stan tutti molto a cuore questo però oserei dire mi sta ancora più a cuore perché proprio il mio bambino l'ho creato io proprio tutto che si chiama la formula del benessere l'ho chiamata all'inizio lo chiamavo la ricetta del benessere insomma si può chiamare come si vuole sono praticamente certo scusami no non ti scusare va benissimo sono dieci punti che per esperienza personale se messi in pratica possono aiutare e aumentare veramente la qualità della nostra vita no emanuela non devi non disturbi no no mi fa piacere e poi se non ci chiediamo queste cose quando siamo live non possiamo chiedercele per cui va benissimo allora adesso vi dico i dieci punti di della tra virgolette la formula del benessere che alla fine li copio in collo li metto su uno dei commenti voleste altrimenti potete andare su youtube mi cercate luco celli andate sul mio canale e in italiano l'ho chiamata la ricetta del benessere è un video dura solo ma neanche due minuti dove io vi parlo della ricetta e poi se volete potete scaricare il pdf lasciando la vostra mail a c'è già una domanda giovanna dice come si può aiutare un malato che soffre con quale l'energia mi potrebbe sti mi potresti aiutare un malato che soffre sì beh io per esempio pratico ricornetti healing la guarigione riconettiva io userei quello dove si dovessi lavorare con questa persona a livello energetico ma puoi usare ci sono c'è reiki ci sono tantissime pratiche ci sono anche qui per domande di ciò che posso fare io come professionista chiedetemi sulla mia pagina personale luco celli la vedete mi chiedete allora iniziamo con la ricetta con la formula del benessere come sempre fatemi domande commentate e più c'è interazione e più la cosa si fa viva adesso vi dico tutti i dieci punti e poi li ve li spiego uno per uno il motivo per il quale secondo me ovviamente possono essere molto utili e cambiare veramente la qualità della nostra vita non c'è caso di dirlo ma lo dico perché è fondamentale le cose che non sono messe in pratica non servono per cui questa questa formula se volete veramente che tranne benefici dovete metterla in pratica non basta leggerla punto primo scegli e dichiara adesso e fallo a te stesso che e alla vita tra l'altro a te stesso alla vita che la tua serenità emotiva e il tuo benessere fisico sono la cosa più importante ripeto dichiara adesso a te stessa a te stesso che la tua serenità emotiva e il tuo benessere fisico sono le cose più importanti secondo punto esercitati ad essere il più presente possibile focalizzandoti su ciò che percepisci fisicamente terzo punto osserva e ascolta gli altri e la vita come se fosse la prima e l'ultima volta che lo fai quarto punto fai tutto intenzionalmente senza aspettative per il piacere di farlo quinto punto impara a discernere e smetti di giudicare sesto punto si la sorgente di ciò che desideri ricevere dagli altri settimo punto fatti domande senza pensare di dover sapere le risposte le troverai ottavo punto ottavo punto coltiva la gratitudine avrai sempre ciò di cui necessiti nono punto ricordati che gli altri ti incontrano principalmente per essere riconosciuti decimo punto coltiva interessi qualcosa che ami fare e che ti soddisfa ok non ti preoccupare se non te li ricordi adesso ve li spiego uno per uno intanto per favore condividete commentate insomma interagite il primo punto intenzionalmente ho scelto che fosse il primo cioè quello proprio da cui partono tutti gli altri perché perché molto spesso le persone non vivono bene perché non hanno fatto questa scelta determinante cioè se noi non scegliamo quali sono le nostre priorità o se crediamo che le nostre priorità siano quelle che magari mettono a repentaglio il nostro benessere fisico e la nostra serenità emotiva non facciamo neanche poi più in grado di mantenere quello che volevamo e comunque non ce lo godiamo vi faccio un esempio se io do priorità penso che sia più importante il successo la fama il prestigio o il benessere economico la mente farà sì magari in un mondo o nell'altro che io ottenga quello che voglio ma magari a discapito della mia serenità e del mio benessere fisico il mio invito è quello di scegliere dichiarare adesso a noi cioè dichiaralo a te stesso ma anche alla vita e non sto scherzando cioè proprio a quel qualcosa che c'è ma non si vede perché crea più più importante la cosa ed è quasi come una dichiarazione come un patto che facciamo non con noi ma con una parte esterna che c'è esterna e interna una parte di noi ma è più di noi e se noi dichiariamo da adesso che la cosa più importante che secondo me ma chiede anche a voi penso condividiate la cosa più importante è la nostra serenità emotiva e il nostro benessere fisico noi abbiamo creato una piattaforma stabile sulla quale poi possiamo creare tutto quello che vogliamo perché come sempre una cosa non esclude l'altra cioè io posso benissimo avere la serenità emotiva il benessere fisico e anche assolutamente anche se lo voglio perché no il prestigio il benessere economico la fama qualsiasi cosa ma se alla base non c'è la serenità emotiva che cosa fa la serenità emotiva permette che tutto fluisca dolcemente diciamo senza sforzi e tutto molto più facile e ovviamente il nostro benessere fisico per cui per questo ci ritenevo che fosse il primo punto e ci tengo adesso magari lo avete già fatto se non l'avete fatto non l'avete ancora fatto fatelo se avete fatto rifatelo scegliete adesso dichiarata voi alla vita che il vostro benessere fisico e la vostra serenità emotiva sono le cose più importanti perché in fondo secondo me sono veramente le cose più importanti da cui tutto parte ciao alessandra volevo salutare tutti ciao sabrina ciao simona ciao matilde ciao chiara scrive scegliere il proprio benessere anche quando ci dicono che siamo egoisti bella domanda allora io direi sì ma qui dovremmo contestualizzare un po di più ma comunque allora se gli altri ti dicono che siamo ci dicono che siamo egoisti bisogna vedere cosa intendono loro per egoismo e comunque se questo egoismo secondo me io non so la questione ma chiediti se il tuo quello che gli altri giuditano egoismo non sta danneggiando nessuno né te e negli altri cioè è solo un'aspettativa altrui alla quale tu non stai aderendo io ti direi perché no certo che poi comunque scusa anche se quello che gli altri vorrebbero tu facessi pregiudicasse il tuo benessere scusa ma a chi stai facendo bene perché comunque la cosa non può durare tanto poi entrerebbe in gioco o prima o dopo consciamento inconsciamente il risentimento cioè in fondo indipendentemente da come gli altri ci giudicano le cose fatte con energia pura sono quelle fatte col cuore cioè con con una scelta intenzionale di dire cioè io so sì lo voglio e lo faccio le cose sforzate tra l'altro se non fanno bene non ti fanno bene io non ne vedo l'utilità però ripeto io non so a cosa ti riferisci di specifico per cui la tengo molto sul generale ma se solo un giudizio altrui è un'aspettativa infranta io non lo so e ti dico così perché anche qua una grande generalizzazione ma ci sono persone e ne ho conosciute tante che vivono vite non felici proprio perché perché piuttosto di apparire egoisti agli occhi del mondo si danneggiano fanno cose si comportano in modi che non vorrebbe in cui non vorrebbero comportarsi ma si sforzano sì magari che fanno anche del bene agli altri ma e poi in fondo questo così bene che poi comunque si ritorge contro di loro e alla fine non lo fanno neanche più volentieri cioè capito però anche qua lungi dagli io non sono qua per dire cosa è giusto cosa è sbagliato cosa è bello cosa è brutto io sono solo detti che ci sono tante casistiche e secondo me sì se non fai male a nessuno giudizio altrui è giudizio altrui ciao celia marina dice io pensavo che per stare bene io debbano prima stare bene le persone che amo ma non è così è marina è bello quello che dici quello che fai notare c'è una simmetria assolutamente perché comunque noi siamo tutti una cosa è ovvio che io per esempio ci tengo a impartire queste cose e le faccio con passione perché il tuo benessere il vostro benessere è il mio benessere una cosa da tenere presente è che comunque se io voglio dar da bere a qualcuno il mio bicchiere deve essere pieno perché se io primo non ho bevuto io e non sono sano fisicamente e non ho riempito il bicchiere o la bottiglia per darla agli altri io non posso dare o comunque posso dare posso doma finché poi non ho più poi rimane un bel casino rendo l'idea maria per cui anche una questione di di fare le cose in modo che cosa ho bilanciato non è facile no non è facile l'ora esatto esattamente queste cose come sempre facili a dirsi e non sempre così facili a farsi assolutamente e poi dipende tanto dalla situazione dalle esperienze pregresse che abbiamo da cosa c'è successo da insomma è complessa la cosa secondo me però ci sono appunto delle 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 dinamiche che se conosciute rispettate ci permettono di vivere meglio non per niente sugli aerei dicono in caso di emergenza mettiti la maschera prima tu e poi aiuta gli altri perché se tu non ti metti la maschera dell'ossigeno cosa succede che non puoi aiutare nessuno muori tu e non aiuti nessuno giuliana dice io ho iniziato a dichiararlo e funziona fantastico immagino ti riferisci al fatto di che la serenità emotiva e tuo benessere fisico sono le cose più importanti per me sono più importanti i figli io vengo dopo beh sì ovvio sì 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 matilde dice ciao caro buona diretta ci seguirò di ferita argomento molto interessante grazie matilde grazie delle del saluto l'apprezzo moltissimo giuliano dice sto meglio quando da quando ha fatto questa scelta immagino e di conseguenza anche chi mi sta intorno sì esatto anche qui vibrazionalmente cioè anche indipendentemente da quello che noi facciamo non facciamo proprio a livello energetico se noi stiamo bene noi se non siamo almeno in uno stato di serenità noi stiamo già aiutando gli altri a livello energetico tantissimo perché per esempio io potrei magari aiutare un'altra persona anche a livello pratico per dire economico o magari anche aiutandolo aiutandola a fare la spesa cucinare ok e va bene e li aiuto io però posso aiutarli in uno stato di gioia di serenità e gli aiuto molto di più perché anche a livello vibrazionale emotivo li tiro su se io gli aiuto sia a livello pratico ma a livello emozionale vibrazionale io non sto bene c'è del risentimento cioè lo faccio perché penso di doverlo fare ma non perché lo desidero non con il cuore insomma a livello emotivo vibrazionale non li sto aiutando così tanto rendo l'idea quell'energia non è poi così genuina così pura per cui anche qua facile a dire si è difficile a farci perché ci sono situazioni dove veramente c'è bisogno che ci comportiamo in un certo modo che ci piaccia o no assolutamente per quello che il contestualizzare il sapere di cosa stiamo parlando nello specifico alla fine è opportuno ciao sabrina assolutamente ciao allora vero chiara dice esatto aspettative infrante sì se sono aspettative infrante chiara io ti consiglio di non farti troppi problemi anche perché ti dico ti dirò di più le persone che hanno aspettative anche qua non è che lo facciano apposta ma che sono abituate a vivere di aspettative con queste persone chiara tu potresti camminare sulla testa a fare l'ex arti mortali io non lo so non le conosco ma pensaci non penso che le soddisfarai non le potrai mai soddisfare al pieno perché chi ha aspettative aspetta le dice la parola aspetta sempre un qualcosa per stare meglio ma è lì il problema il punto che le aspettative sono delle illusioni per cui queste persone si aspetteranno sempre qualcosa di te che non fai ma proprio per il loro la loro dinamica mentale non perché tu non fai abbastanza matilde dice io invece ho imparato a mettermi prima scusa patrice io invece ho imparato a mettermi prima nell'amarmi perché li amo e voglio dare loro il buon esempio e voglio che si sentano liberi se mi vedono felice e indipendente lo sono fila ha risposta l'ola allora dice io invece ho imparato sì a mettermi prima del nell'amarmi perché li amo perfetto ho capito matilde tu ti ami prima ma lo fai per loro voilà lo fai consapevole del fatto che amandoti tu dai un esempio a loro per come far a vivere bene fantastico fantastico sì anche qua ecco mi ricollega quello che ho detto prima che partissimo con la formula le cose possiamo farle inconsciamente o perché pensiamo di farle per un motivo o molto consciamente come matilda dice matilda qui sta ci sta dicendo che lo fa sì per lei ma addirittura non è anche per lei cioè lo fa per gli altri e facendo per far facendolo per gli altri lo fa per lei ma perché fa capire agli altri come far star bene renderea cioè queste simmetrie sono così in tre si intersicate tra di loro che che quando capite diventa tutto veramente meraviglioso ci vuole un attimo entrare nell'ottica forse però ne vale la pena sforzarsi un attimo intendo che sono liberi si voilà ho capito grazie matilde si tu curandoti della tua felicità non dai la responsabilità a loro della tua felicità per cui li liberi fila esattamente perché se io sono felice ma la mia felicità non dipende da te io ti ho liberato da una responsabilità molto grande la responsabilità che molte persone direttamente indirettamente si sentono accollare dagli altri io sto bene se tu mi vuoi bene io sto bene se tu ti comporti come vorrei io aspettative 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 ma se io sto bene indipendentemente da quello che fai tu che non vuol dire che non ti voglio che non ti amo anzi io ti amo incondizionatamente io sono con te per il piacere di essere con te non perché ho bisogno di quello che vuoi tu sono libero io ma libero anche te bellissimo katia dice carissimo luca mi piace o scusa carissimo luca mi piace molto il fatto di rivolgere le nostre dichiarazioni non solo a noi stessi ma alla vita perché questo significa aprirci alla possibilità che ogni cosa desiderata possa accadere questa fiducia nell'esistenza per mia esperienza è molto ben ricompensata ricompensata e sempre più mi affido alla perfezione dell'universo che tutto sa e conosce grazie katia si sai perché l'ho fatto l'ho fatto ma tutto quello che ho creato e quella la formula l'ho fatto perché l'ho vissuta il motivo per cui ci tengo a far sì che noi dichiariamo le cose non solo a noi ma anche alla vita e si può anche fare a noi agli altri e alla vita ma volevo fare alla vita perché gli altri ci possono essere ci possono non essere ci possono girare la schiena o potrebbero magari non esserci più la vita c'è sempre la vita è il tutto potete usare la parola dio a me non fa paura tesorare quella che volete ma non in centro religioso però io avevo fatto così io quando ho scelto di cambiare la mia vita giuro io ho proprio guardato in su ma con un affare con un'attitudine proprio di di affronto come dire ma lo fa io lo sei ci sei se ci sei aiutami e quando ho visto veramente che questo potere c'è ma era incredibile cioè io ho smesso di drogarmi veramente e non sono andato da nessuno proprio perché stavo così bene naturalmente ma perché perché ho iniziato questa relazione con la vita quando ho visto che questa cosa c'era e non me la inventavo stavo bene e stavo meglio di quando mi drogavo naturalmente pensavo o batto i coperchi o veramente la vita sta comunicando con me e io l'ho fatto un patto da lì ho iniziato questa relazione molto intima con la vita che ce l'hai anche tu e ce l'abbiamo tutti ma devi scegliere di svilupparla di riconoscerla per cui da lì ho detto io prometto ti prometto che voglio fare di tutto per rimanere in questo stato d'animo d'essere psicofisico naturalmente e ti prometto che farò di tutto per trasmettere questa cosa agli altri e qui guarda i sogni diventano realtà se ci lavori sopra e qui siamo grazie katia per sottolineare quello per questo per dire perché se entra in gioco un qualcun altro noi siamo più stimolati perché sappiamo di non essere soli e noi non siamo mai soli anche quando per tutti voi se viene mai capitato lo dico col cuore perché io lo so cosa vuol dire essere solo so cosa vuol dire essere malinconici ma voi non siete mai soli noi non siamo mai soli se noi scegliamo di instaurare questo rapporto con quello che c'è ma non si vede questa energia ma io ti assicuro che la vedi la senti la mangi e dappertutto non ho parole comunque marina dice capito grazie è vero se non sia benessere interno non possiamo far bene a nessuno esattamente marina esattamente il benessere interno è la base anche qua non è detto perché c'è gente che non sta bene internamente aiuta tanto gli altri e non è detto non è che deve essere così bisogna farlo io dico se vuoi se vuoi che aiutare veramente gli altri e goderti questo aiutare gli altri goderti la vita e far sì che rendi gli altri anche gli aiuti li rendi indipendenti come diceva matilde sì è bene che che stiamo bene e opportuno che stiamo bene dentro graziella ciao luca ciao graziella silvia saluta anche lei tutti ciao mattia ciao benvenuto l'ora dice sì avevo notato se non mi vedono felici stanno bene se mi vedono felici l'ora si dice sì lo avevo notato se mi vedono felici stanno bene anche loro sì esattamente di riflesso installiamo felicità se siamo felici il nostro star bene è un grande diritto ma anche una grande responsabilità una grande responsabilità sapete uno degli agenti scatenanti perché cambiassi forse avevo già detto tante dirette fammelo ridico quando questa mia amica carissima amica mi disse una volta perché io mi quando mi drogavo io poi dicevo delle cavolate guarda tipo della serie perché mi diceva era preoccupata mi diceva ma come fai perché lo fai e io le dicevo ma cosa vuoi da me lo faccio io faccio scusate faccio del male a me mica te e lei una volta proprio veramente esasperata e mi ha detto delle parole che me le ricordo ancora e hanno contribuito alla mia svolta mi ha detto luca sei un gran egoista sei un gran egoista perché se tu non stai bene io soffro io non posso star bene e da lì ho capito che cavolo che quello che facevo aveva delle ripercussioni grandi anche sugli altri e non potevo più raccontarmela ma questo per dire io nel mio caso io mi drogavo che ma anche anche però ero molto negativo questa attitudine negativa questa attitudine rabbiosa lamentosa o frustrata ha delle ripercussioni sugli altri scusate c'era tante di queste mosche qua e si mettono davanti all'obiettivo oscurrano tutto comunque oh ragazzi noi potremmo fare un'ora solo del primo punto qua muoviamoci un attimo però voglio leggere tutto mi piace troppo introdire valeria dice forse matilde intendeva per i figli a buono valeria grazie per sottolineare quello a matilde dice io sono felice indipendentemente e faccio capire a loro li libero a per i figli sicuramente valeria sicuramente è un esempio enorme per i figli silvia dice verissimo luca ti ringrazio grazie dice ma è un po come quando hai tanta fame l'aspettativa quando l'aspetti come dono d'amore perché scusate scusa allora ma grazie dice ma è un po come quando hai tanta fame l'aspettativa quando l'aspetti come dono d'amore perché ne dai tanto è difficile non star male è no non è facile non star male sì l'aspettativa un po quando hai tanta fame sì è vero certo l'aspettativa quando l'aspetti come un dono d'amore perché dai tante difficile non star male ma assolutamente grazie certo ci sta ma per quello che uno dice facile a dirsi difficile a farsi assolutamente assolutamente non è facile e ci si sta male è possibile comunque liberarci di tante aspettative però certo più più grande l'attaccamento e più automaticamente scatta l'aspettativa cioè non raccontiamocela è vero ci vuole veramente tanto lavoro bella silvia libera me liberi tutti assolutamente sì ciao paola valeria dice credo che una mamma che che si ama in primis può essere solo un bel esempio per i figli assolutamente valeria sì qualsiasi esempio noi diamo qualsiasi cosa che noi facciamo a noi stessi è già un esempio per gli altri anche qui è un giudizio dire è un esempio negativo positivo bello brutto ma comunque è un'influenza è un esempio che diamo per cui certo tutto quello che abbiamo delle ripercussioni sui figli poi figurati grazie l'ora grazie silvia dice anche io l'ho fatto così per me non è stato così immediato ma non ho mai smesso di crederci oggi è tutto così meraviglioso dice silvia si silvia io abbiamo abbiamo lavorato collaborato insieme un po ho proprio visto la metamorfosi silvia complimenti al proprio interiorizzato questi concetti chiara dobbiamo lasciarsi attraverso dobbiamo lasciarci attraversare dalla vita bella mi piace questa frase sì sì la vita veramente ci può ci può fluire passare addosso ciao raf grazie luca mi hai commosso con la tua storia ciao valeria grazie niente mi fa piacere ciao alina buonasera a tutti buonasera ilaria ciao grazie ciao debora ciao felicetta ok secondo punto ragazzi eserci ciao luca ti vedrò di ferita perché sono fuori ciao debora ok è vero l'hai detto ciao buona serata secondo punto della formula del benessere esercitati ad essere il più presente possibile focalizzandoti principalmente su ciò che percepisci con i sensi fisici non lo facciamo proprio piano piano come l'abbiamo fatto altre volte perché ci metteremo troppo tempo ma il punto è che quando noi noi normalmente in ogni istante della nostra vita e la vita è solo adesso l'eterno momento di adesso cinque minuti fa anche cinque secondi già sono solo più un ricordo tra dieci minuti e una proiezione futura e nel momento di adesso noi normalmente possiamo fare principalmente due cose o elaboriamo dati siamo nella nostra testa giudichiamo critichiamo pensiamo ricordiamo proiettiamo oppure siamo presenti la nostra anima la nostra essenza il nostro essere noi siamo esseri umani il nostro essere ha un diretto contatto cioè lui il suo canale di l'ancora dell'essere su questo piano di esistenza fisico è il corpo per cui noi quando intenzionalmente ci focalizziamo su ciò che vediamo fatelo adesso dai piene più dai proprio più energia possibile a quello che vedi come se fosse la prima volta che vedi qualsiasi cosa è un esercizio semplicissimo molto potente per espandere la consapevolezza che ti invita a fare adesso ma sempre questo qua tra l'altro una cosa che devi da fare da adesso sempre non solo adesso mentre ti focalizzi che ne so sulla mia immagine o quello che stai guardando fai anche caso a quello che c'è ai perimetri del lato visivo cioè io sto guardando l'obiettivo ma vedo una bottiglia un bicchiere una sveglia un computer sto scegliendo di notare cose che ci sono ma che non a cui non farei caso se non ce li essi di notarle mentre continui a fare questo dai più energia quello che senti con le orecchie la mia voce ovviamente io appena ho detto quello mi sono ricordato di sentire cosa infugire le mosche che mi girano intorno quel rumore c'era ma non lo notavo mentre continuiamo a fare questo focalizziamoci il più possibile anche su quello che percepiamo fisicamente come per magia per me è successo adesso la sedia è apparsa apparsa sotto il mio sedere c'è sempre stata ma se non scelgo di essere consapevole del mio corpo è come se non ci fosse il pavimento sotto i piedi mentre continuiamo a fare tutto questo facciamo caso abbiamo dei sapore in bocca ci sono degli aromi nell'aria e poi concentriamoci sul corpo lo sentiamo sentiamo una vibrazione magari corporea una sensazione se questa cosa la facciamo bene noi sottraiamo dalla quantità finita di energia fisica corporea sottraiamo energia alle facoltà pensanti cerebrali neurotiche normalmente e aumentiamo i sensi e siamo più presenti ok siamo più nel qui ed ora questo secondo punto semplicissimo terzo punto osserva e ascolta gli altri e la vita come se fosse la prima e l'ultima volta che lo fai e questo semplicemente qui sto sottolineando una realtà che è palese ogni momento della nostra vita è unico è unico ma cosa succede tante volte anche qui non lo facciamo apposta che incontriamo magari una persona che 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 magari un familiare o un amico che e ci facciamo già dei film prima pensiamo a me succedeva tantissimo in famiglia adesso non più che che prima di vedere quel familiare pensiamo qui sappiamo già cosa ci dicono e in effetti loro proprio perché rispondono a questi nostri copioni a questa energia ci dicono le solite solfe e noi non li ascoltiamo siamo li capi che papapapu adesso la faccio drammatica ma perché la vita ragazzi noi magari quella persona non l'ascoltiamo e l'ultima volta con cui siamo stati con l'ultima volta che abbiamo interagito con loro non c'eravamo ma non c'eravamo non ci siamo goduti il momento ci salutiamo mezz'ora dopo una telefonata quella persona ha avuto un incidente mortale ci diciamo cacchio era l'ultimo momento che avevamo con quella persona questo per dire non per far riporto perché ogni momento è unico se noi scegliamo anche qui un allenamento è un allenamento quello che se abbiamo fatto secondo punto esercitarsi del presente facciamolo con le persone ascoltiamole guardiamole è l'unico momento che abbiamo prezioso con loro e credetemi quando noi riusciamo a interagire con le persone senza giudizi pregiudizi critiche o anche a goderci le cose da solo si aprono dei mondi davanti a noi noi creiamo lo spazio per l'impensabile e le cose meravigliose che possano che potrebbero succedere solo se facciamo quello perché se noi i nostri copioni che sono nostri però che proiettiamo e magari loro sono persone un po così prone a dirci le stesse cose ma se noi già ci aspettiamo quello hai voglia che non cambierà mai niente spero di esservi spiegato ma adesso voglio leggere allora Giuliana dice questo esercizio farlo sempre è più complicato bisogna che mi alleni di più eh lo so Giuliana devi ricordarti quando ti dimentichi quando ti trovi persa nelle tue nella testa ti ricordi ci ah ok ti ancora di nuovo nel qui ed ora cosa sto vedendo cosa sto sentendo lo so sembra una cosa tediosa all'inizio ma poi diventa automatica credimi Simona dice sono consigli preziosissimi grazie ti ringrazio che li apprezzi grazie Silvia dice a me sta roba di focalizzarmi sui sensi fisi a me sta roba bellissimo a me sta roba di focalizzarmi sui sensi fisici è servita per prendere le distanze dalla mia mente piano piano la mente ha perso il controllo su di me e contemporaneamente la mia essenza ha imparato a utilizzare la mente a suo piacimento questo è proprio lo scopo di questo esercizio oggi la mente è uno strumento potentissimo al mio servizio e non più la mia padrona grazie luca non smettere mai di insegnarci a vivere bene ti ringrazio Silvia grazie per me sono importanti queste conferme esattamente il punto di questo esercizio è di far capire a tutto il nostro essere che noi il nostro parole padrone di casa è la nostra anima la nostra essenza e l'essere la mente che mente ma non sempre anche carina comunque la mente il nostro strumento che che scegliamo che che usiamo noi che utilizziamo noi come vogliamo il cagnolino al quale noi addestriamo a tirare il bastone a portarcelo altrimenti il cagnolino ci porta dove vuole dobbiamo allenarlo chiara dice vale anche per i momenti brutti sì chiara sì allora dipende se sono così brutti che non ce la fai non li sopporti vuoi evadere fatti un film ok però rimangono lì sì se vuoi veramente diventare la maestra di casa i momenti brutti te li guardi te li vivi poi ci sono volte che non riesci a essere presente guardati il film ma assorbili bene lascia che passino e poi rimani presente facile a dirsi difficile a farsi però io ti consiglierei sì di farlo sempre di essere presente perché quello che accantoniamo accantoniamo prima o poi o si somatizza fisicamente o magari esce ci crea poi magari degli attacchi di panico veramente o di ansia o comunque dell'insofferenza latente che è dovuta al fatto che non abbiamo affrontato momenti difficili lo so non è facile ma è possibile Susi dice se solo ne fossimo sempre costantemente consapevoli le relazioni migliorerebbero moltissimo e sì è vero Susi se noi fossimo sempre presenti le relazioni sarebbero magiche magiche sì baba dice stasera non si dorme un sacco di spunti su cui rifletta lavorare grazie di tuoi insegnamenti ti ringrazio e siamo solo al terzo punto figurati adesso passiamo al quarto paola dice sai dici il giusto quando un ragazzo mio conoscente ha deciso di farla finita con la vita mi sono sentita responsabile ho cercato di ricordare il nostro ultimo incontro rendendomi tristemente conto di non esserci ciao paola grazie di condividere questa cosa sì sì perché queste cose succedono purtroppo e ci rendiamo conto di cacchio cioè io ti dico io perso mia mamma avevo 25 anni e sai quanti film mi sono fatto del genere ma lasciamo perdere per cui sì tenere presente queste cose e poi farlo adesso che siamo uno stato consapevole che abbiamo creato lo spazio energetico per interiorizzare queste cose è una bella cosa elena dice l'ho solo in o english ciao elena no stasera no devi venire il mercoledì on wednesday i do it in english ok quarto punto fai tutto intenzionalmente senza aspettative per il piacere di farlo ripeto fai tutto intenzionalmente senza aspettative per il piacere di farlo i bambini prima che noi l'indottriniamo alla competitività all'arrivismo a raggiungere degli obiettivi questa cosa la sanno sono dei di bambini sono dei dei delle idee e ce la insegnerebbero fanno tutto per il piacere di farlo se noi facessimo tutto nella vita ma sì con intenzionalità e non sto dicendo fare tutto alla wednesday yes tutto alla muzzo cioè della serie che no no tu tu puoi e questa veramente la formula di chi vive bene hai un'intenzione ma non hai un attaccamento perché la cosa che ci fa bene male non è l'intenzionalità di voler fare una cosa no quello ci fa vivere bene quello è la passione quello è il carburante ma è l'aspettativa che ci rovina e già che ci rovina perché abbiamo paura di farci una figura di m di non vincere ok ma se noi facciamo tutto per il godimento per il piacere di farlo noi abbiamo già vinto ragazzi abbiamo già vinto pensate a questo pensate che ne so un atleta no che si allena per vincere ok magari si deve allenare per delle settimane dei mesi certi atleti che ne so quattro mesi di allenamento ma magari anche di più degli anni no per cosa per cinque minuti di gloria allora se perde se è mangiato tanta m tanta fatica e ha pure perso che mazzata ma anche se vince ragazzi un mese un anno o due anni di sacrifici per cinque minuti di gloria sei sul podio ha vinto e poi e poi chi ti si fila non scherzamente poi alla fine due giorni dopo ti svegli sei di nuovo lì che devi trovare un altro obiettivo ma se tu lo fai godendoti quello che fai tu anche se vinci benissimo ma anche perdessi tu comunque ti sei goduto quei due mesi tre mesi quell'anno di di passione e poi se perdi ame ma cioè rendo l'idea comunque ok ecco questo è più difficile ecco questo è più difficile quarto far tutto con intenzione senza aspettative e non è facile no perché siamo viviamo in un sistema che veramente è competitivissimo e l'arrivismo e la vincita a me che lasciamo perdere però se invece se prendiamo le cose alla leggera al punto se ci liberiamo da queste cose diventa tutto bellissimo molto più facile yes e sai cosa tra l'altro siamo anche più efficaci cioè primo tanto se non vinciamo ma chi si frega cioè e se perdi ma io credetemi sono il re delle perdite sai cosa fai cadi boom per terra ti tiri su dici ah che bello mi sono fatto una bella figura di m o che ne so o non ce l'ho fatta ho fallito e riparti però poi col tempo ti accorgi che se ti focalizzi lì non ti curi neanche più di queste cose ma allo stesso tempo ti arrivano però anche dei premi cioè la vita è fatta di tutto a volte le delusioni arrivano per le aspettative che riportiamo negli altri certo chiara ma a volte io direi sempre le delusioni sono sempre il prodotto di illusioni vediamo già la logica già la cosa ce la dice lunga noi ci deludiamo perché ci illudiamo c'è la delusione è un'aspettativa una proiezione un film che non si è avverato è ovvio il maestro infatti e dice sempre i maestri i grandi maestri dicono sempre la solita cosa svegliati svegliamoci ci dicono che vuol dire goditi quello che hai qui non ti curare in quello che vorresti quello che vorresti è un'immagine la vita è perfetta se hai questo davanti a te sei questo questo bicchiere d'acqua goditi questo bicchiere d'acqua perché il momento che pensi che staresti meglio se avessi un'altra un altro tipo d'acqua o un bicchiere di vino tu non sei più presente ti stai facendo un'aspettativa che anche se ti soddisfa tanto comunque tu te ne fai un'altra è un'altra ma si può imparare lo stiamo facendo tutti insieme a vivere qui ed ora verissimo mio figlio un grande maestro è a cinque anni esattamente giuliana guarda i bambini prima che perché cosa fanno imparano queste cose imparano a giudicare imparano la competitività imparano tante cose che non sono sempre negative ma hanno tanti tanti lati che non sono tanto sani silvia dice sì senza aspettative fantastico tutto è come deve essere secondo la perfezione universale esatto e non secondo i canoni che ci hanno insegnato e con i quali ci hanno condizionati esattamente grazie la dice ma quando sono gli altri che hanno aspettative da noi punto interrogativo bellissimo grazie la sì in effetti non è così facile quando gli altri hanno aspettative da noi allora potremmo fare poi una diretta solo proprio per questo te la butto lì veloce veloce questa è una patata bollente in effetti come si fa si diventa coscientemente emotivamente autonomi cioè la tua coscienza è basata deve essere basata sui sulle tue regole sul tuo sistema interiore di essere autentico cioè tu sai in ogni circostanza e in ogni circostanza indipendente dalle persone con chi sei ok come quale sono le regole del tuo gioco perché è importante che fare questo lavoro perché se no in effetti come dici giustamente tu quando ti relazioni che ne so con tuo fratello con tua sorella o con chiunque altro vuoi due bastano due elementi due elementi distinti che insieme sono una cosa unica diventano un sistema in quel sistema cioè tu e tua sorella o tu e un amico quello che loro si aspettano da te cioè quello che il sistema si aspetta da te pregiudica il fatto che tu puoi essere tu il pendolo sempre così o innocente o colpevole tu sei innocente perché vuoi appartenere a quel sistema vuoi appartenere a lui a lei a quella relazione per cui per essere innocente devi comportarti come vogliono loro se invece tu non ti comporti come vogliono loro tu devi essere forte abbastanza e per quello che deve avere un tuo sistema un tuo sistema di riferimento una tua coscienza interna ferrea per la quale che ti ti scagiona perché se no perché se no tu ti senti colpevole se tu dici un no non ti comporti come vogliono loro infrangi le loro aspettative e non è facile non è facile queste questa vergogna interna è molto forte e ci blocca far sì che noi non riusciamo a essere liberi per quello che il conoscersi e il mio lavoro è questo ti stimolo a far sì che tu devi scegliere quello che è che è consono a te quello che ti piace quello che non ti piace quello che ti fa star bene che potrebbe risuonare certo con tuo fratello tua sorella con gli altri o con tutta la società ma non con tutti e non sempre e lì devi scegliere in effetti a chi sceglie che cosce a che coscienza scegli di onorare se non onori la tua io ti dico solo che prima o poi ne risentirai o fisicamente o motivamente psichicamente e tante persone però infatti sono dei burattini ma adesso faccio un esempio non lo fanno apposta però non hanno una coscienza propria non sono psichicamente emotivamente coscientemente autonomi e per cui sono delle varche avere un con uno solo in un modo con uno in un altro e per quello vivono in conflitto unico non sanno perché in un certo contesto una cosa va bene una cosa va male spero di esservi spiegato non posso dilungarmi troppo perché se non non finiamo più la ricetta stasera la formula ciao michela scusa però dimmi se mi sono spiegata abbastanza bene grazie la non mi piace lasciarle cose in sospeso michela dice con gli esempi che fai capisco tutto meglio grazie luca grazie michela per dirmi perché io parto con gli esempi poi in effetti mi chiedo ma qui mi capiscono valeri dice ma queste aspettative da dove vengono credenze conflitti o semplice paura bella domanda e arrivano le aspettative arrivano dal anche qui dovremmo fare una diretta proprio su questa cosa sono le aspettative sono fanno parte della realtà sistemica cioè quando noi ci relazioniamo con una persona con più persone il gruppo il sistema ha delle regole tutte i sistemi sono fatti dalle dai membri da delle dalle parti che comporgono il sistema che sono interagenti ma unici e però cosa tiene il sistema insieme sono queste appunto queste regole che sono le credenze le aspettative se una persona non aderisce non è conforme abbastanza con queste credenze queste aspettative del gruppo del sistema il gruppo lo espelle e a nessuno piace uscire perché noi abbiamo ancora a livello proprio ancestrale il nostro cervello limbico è così condizionato da dai tempi addietro cioè noi a livello proprio istintivo pensiamo che non noi abbiamo un bisogno di appartenenza grandissimo se noi non apparteniamo alla nostra tribù alla nostra famiglia ok abbiamo paura che se ci buttano fuori dalla caverna che ci siano ancora le bestie feroci che ci attaccano che dobbiamo cacciare da soli ma non è più così adesso va certo dobbiamo comunque affrontare questo senso di colpa che abbiamo riguardo al gruppo però se ci butta fuori perché noi non vediamo le cose come vogliono il nostro gruppo di amici o la famiglia ok non è facile però se siamo indipendentemente autonomi economicamente ok ed emotivamente ce la facciamo capito e possiamo integralmente farcela nella vita senza attenerci alle regole del gruppo che ci sono state imposte se non ci piacciono mi sono spiegato è un argomento molto complesso questo qua però sì sono aspettate vengono un po dalle credenze nostre anche le esperienze passate da conflitti interni da tutte queste cose sì e poi certo la paura ma la paura secondo la paura è quella appunto di di essere giudicati come colpevoli di non attenerci alle regole del sistema allora questo crea paura perché se noi quando noi capiamo che non c'è niente di aver paura credimi che noi ce la possiamo fare e qui come diceva anche katia prima per quello che io ti invito vi invito tutti a instaurare questa relazione con la vita cavolo perché quando tu hai una relazione forte con la vita che è la supremazia spirituale e il tutto tu sei fortissimo gesù cristo severamente esistito severamente ha vissuto come ha vissuto lui aveva una un diretto un filo direttissimo con appunto con la vita stessa e lui è andato contro tutti addirittura l'anno sacrificio crocifisso e lui era lui non si muoveva lui ha mica cambiato le regole del suo gioco interno lui era molto emotivamente autonomo e coscientemente autonomo e però appunto sapeva chi essere chi era addirittura detto prendete il mio corpo tanto è solo un veicolo però bisogna essere forti e non aveva paura appunto perché aveva capito tutte queste dinamiche che i sistemi hanno che i gruppi hanno che sono poi delle idee che a volte ci possono far star bene ma a volte no clemente dice ma a una illusione segue sempre una delusione non a caso l'etimologia latina in ludo entra nel gioco segue sempre il deludo l'uscita dal medesimo gioco wow grazie clemente bellissima considerazione è vero un'illusione sempre sempre una delusione infatti non a caso l'etimologia in ludo entrare nel gioco segue il deludo l'uscita nel medesimo gioco grazie sì chiara dice hai centrato il punto grazie chiara avere una coscienza interna ferria ma non so come si fa ad averla me lo insegni te lo sto insegnando chiara sai come fai continuo non sto scherzando cioè si può fare in tanti modi ma per me io visto che cioè ascolta le dirette le cose di cui parlo sono inerenti a questo leggi libri di crescita personale chiediti spesso cosa mi piace come mi sento in relazione a questa cosa come persona e poi ascolta il tuo corpo come mi sento io e piano piano come costruire una casa vedi questa in questa situazione io mi sento così perché io reputo questa situazione in base a me stessa in questo modo e ti costruisci da sola fai così piano 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 è un cammino un percorso sogna dice e io che sono la pecora nera della famiglia una sofferenza di tanti anni alla quale ho provato ho trovato il comu il nome purtroppo solo pochi giorni fa e io che sono la fecora nella famiglia una sofferenza di tanti anni alla quale ho trovato il nome purtroppo solo pochi giorni fa ok però spero che sei che il risultato qualcosa di positivo in questa situazione su rosanna dice però alcuni sono consapevoli quindi opportunisti potrebbe anche essere potrebbe anche essere io però ti dico la mia la mia opinione io non ci credo ok l'opportunismo proprio per il gusto dell'opportunismo e la cattiveria per il gusto della cattiveria io a io a queste cose in fondo non ci credo secondo me in fondo c'è sempre una poca consapevolezza in altre parole c'è sempre una crea in credere nella dualità io sono io tu sei tu perché se queste persone sapessero veramente e in fondo per cui perché sono opportunisti o cattivi perché per amore perché vogliono difendere un qualcuno qualcosa ma se loro sapessero il tutto la dinamica del tutto non potrebbero più essere opportunisti o cattivi opportunisti questo è completamente un'idea mia ma perché io non credo nella negatività bella idea luca una diretta sul sistema si facciamola non non lo hai mai fatto e sarebbe davvero interessante si silvia non l'ho mai fatto perché quando noi facciamo tanti ecco silvia per esempio chiara diceva come fai silvia e da quando iniziate voleva cambiare beh ci siamo anche visti qualche volta privatamente ma veniva quasi sempre agli incontri che alla fine condividiamo le stesse cose qua e io do il 100% qualsiasi contesto non è che perché una diretta facebook dico meno condivido meno di cosa farei quando venite mi pagate comunque e lei veniva ascoltava e lavorava veniva ascoltava e lavorava voleva veramente cambiare la vita e ce l'ha fatta così si fa lo small processo è già iniziato il processo senza sentenza comunque dicevo silvia si non l'ho mai fatto questa cosa sistemica perché io le realtà sistemi che le avevo studiate ma adesso le sto proprio studiando e usando molto di più da degli ultimi dagli ultimi tempi che noi che non facciamo più gruppi sono già passato tanto tempo per quello che adesso le farei grazie anche perché prima di parlare qualcosa voglio veramente sapere quello che parlo averlo sperimentato grazie dice certo ci sono persone che ti farebbero sentire sempre in colpa rimorsi di coscienza io ne sono uscita per fortuna e sì è vero ci sono certo luca ci sei spiegato benissimo grazie sono contento graziella ok ciao roberto ciao roby ciao sono contento che ci sei laura dice bravo sei molto chiaro ti ringrazio laura io non ho paura della escludenza familiare l'aria dice wow sei forte coscientemente forte valeria dice sì grazie lui è stato chiaro intendo nell'aspettativa grazie rosanna dice io non mi adeguo però si soffre perché ti escludono sì è vero che escludono se non ti adegui ti escludono rosanna sì e gli effetti una delle conseguenze è e che che potresti soffrirne certo ilaria arriva di me ci sta guardando che grazie dice sant'agostino diceva ama e poi fai quello che vuoi bellissimo sì giuliana dice che liberazione uscire dagli schemi nel senso di appartenenza con corredo di sensi di colpa e sì sì liberazione uscire dagli schemi nel senso di appartenenza con corredo di sensi e sì a livello cioè ci sono delle cose che bisogna affrontarle se un sistema mi esclude se non appartengo più al sistema e devo affrontare il fatto che mi giudico negativamente che mi posso sentire solo e queste cose con queste cose bisogna fare i conti per quello che non è tutto così rose e fiori la consapevolezza un prezzo però secondo me ne vale molto la pena ma mia dice tutte queste cose le possiamo mettere in pratica sagra da grandi da piccoli siamo sottomessi al bisogno di amore della famiglia wow esattamente mia esatto se noi adesso non è tempo non è lo spazio ma a livello sistemico questa è una cosa importantissima brava noi quando siamo bambini siamo vincolati due volte abbiamo bisogno di essere nutriti fisiologicamente cioè abbiamo bisogno che ci diano da mangiare e che ci tengano che ci sia un tetto sotto la nostra testa e abbiamo bisogno di amore dalla famiglia proprio abbiamo più bisogno ancora del cibo per cui da piccoli in effetti noi non possiamo permetterci per quello che dobbiamo dobbiamo è una strategia di vita dobbiamo aderire alle regole del sistema familiare pertanto che non ci piacciono e poi per amore cieco le interiorizziamo e non capiamo non possiamo contestualizzare bella considerazione mia esatto sì e solo da grandi però per quello che da grandi questi lavori sono importantissimi se non li facciamo è difficile adesso ci sono io uso tanto le le costellazioni familiari e sono veramente potenti per smuovere certe cose e che se non sono fatte noi la famiglia guardate il prossima la prossima diretta venerdì sera parliamo proprio di famiglia ecco sarà una cosa molto sistemica perché parliamo proprio della l'importanza della famiglia e della serenità per cui venerdì prossimo parliamo di sistemi perché il primo sistema è la famiglia sogna dice essere la pecora nera della famiglia vuol dire avere la responsabilità di far evolvere la specie della famiglia wow sì mi sono documentata io non mi sono mai sentita accolta nella mia famiglia perché ribelle ai loro schemi esattamente esattamente sonia sì esattamente hai la responsabilità di far evolvere la specie esattamente chiara dice che punto siamo al quarto poi poi possiamo al prossimo però è troppo bello allora voglio vedere tutto non scrivete più niente però per adesso perché sennò non finiamo più allora chiara dice mi viene in mente un libro che ho letto di saggezza tolte scusa tolteca tolteca non so come si lega tolteca tolteca siamo stati addomesticati al sistema assolutamente sì fai dirette su questo tema sarebbero interessantissime va bene lo faremo ne faremo di più in effetti sono argomenti molto interessanti e utili non sono interessanti perché le interessanti c'è il tutto silvia dice sei un grande ti ringrazio non è da tutti condividere tutto anche gratuitamente grazie ma sì ma c'è il benessere il benessere chi se frega cioè poi giuro io meglio il mio torno a conto ce l'ho io sto godendo tantissimo a me queste cose piacciono io mi piacciono non è che lo faccio lo faccio proprio perché mi piace comunque bravo luca sai quando arriva il risveglio tutto non è più tanto dolorante si esatto brava quando non è più tanto dolorante esatto il aria perché vero la vita può continua a proporci quelle che prima giudicavamo disgrazie tragedie adesso sono fatti che accadono che ovviamente magari non sono piacevoli ma 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 meno di niente però in effetti sono meno doloranti esattamente perché quello l'essere svegli non vuol dire essere immuni dalla vita quello che ci danno vuol dire essere consapevoli e comunque soffrire di meno il dolore c'è ma la sofferenza giusta dalle nostre pippe mentali non c'è più ehi evelyn ciao benvenuta benvenida mia dice mia dice può essere per essere fedeli a se stessi ci vuole molto coraggio il coraggio costa ma poi paga è sì come appunto devi andare contro un sistema deve andare contro un gruppo a livello ideologico è una scelta che si fa sono scelte che si fanno grazie dice bravo interessante parlare della famiglia guarda la famiglia è la base di tutto quando abbiamo sistemato le nostre relazioni familiari se c'è allora se siamo riusciti a creare armonia in famiglia ne parleremo guardate ne parleremo per creare armonia in famiglia non è difficile ci sono delle cose che che sono sacrosante però il riconoscere che noi abbiamo dobbiamo essere grati per la vita che abbiamo ricevuto dai nostri genitori e questa cosa chi non la fa soffre direttamente direttamente riconoscere che per tanto che vogliamo ribellarci noi se noi facciamo le cose pensando a lo faccio proprio per scusa ma non lo faccio perché troppo volgare come gesto ma ti è faccio così per perché proprio per farti pagare quello che tu mi hai fatto vedere non funziona un cavolo ci sono dei metodi che con i quali possiamo capire le nostre origini onorare dire grazie a tutto quello che è stato trasmutare l'energia e poi di lì partiamo cioè in altre parole anche quando noi siamo usciti dal sistema noi dobbiamo riconoscere che noi siamo appartenuti appartiamo apparteniamo al sistema anche se il sistema non ci non ci giudica è quello lavoro che possiamo fare noi e poi ci liberiamo possiamo decollare ma se non facciamo quel lavoro c'è sempre un qualcosa che ci lega a loro sono discorsi complessi ma ne parleremo mi fa piacere che mi fa piacere che andiamo in fondo a queste cose e l'area dice da quando ho cambiato il mio comportamento anche la mia famiglia è cambiata assolutamente l'aria tu sei un sistema la foto famiglia un sistema cambia un componente del sistema cambia tutto il sistema ciao maria sonia dice grazie manuela grazie grazie a voi ciao vittoria bellissimo vederti qua o ragazzi quinto punto impara a discernere e smetti di giudicare ripeto impara a discernere e smetti di giudicare cade a pennello facile la faccio breve non ho già parlato del giudizio siamo stati educati condizionati a credere che ci debbano piacere le cose che gli altri ci hanno insegnato che sono belle che sono brutte che sono giuste e sbagliate per cui normalmente d'amblè la prima domanda che consciamente inconsciamente ci facciamo è a quando affrontiamo una situazione una persona ma è giusto sbagliato è bello è brutto io ti consiglio vivamente d'ora in poi se vuoi farti questa domanda fatela fatti però anche questa domanda ciao loredana come mi sento io a riguardo di questa situazione a riguardo di questa persona come mi sento ma proprio come mi sento lo senti mi senti io spero io lo sto sentendo il tuo corpo chiede al tuo corpo non alla tua testa come mi sento io mi piace o non mi piace il mi piace non mi piace è basato su una preferenza personale intima autentica non su qualcosa che ci hanno detto gli altri e poi facciamo la nostra scelta vedete la differenza è giusto e sbagliato è puramente intellettuale e tante volte non corrisponde al nostro sentire infatti a volte il nostro istinto di pancia ci dice fallo o non farlo e poi ce la contiamo sì però non è così male o sì però una bella opportunità e poi ci troviamo a dire cavolo avessi ascoltato quell'impulso ecco possiamo imparare ascoltare quell'impulso un allenamento come mi sento riguarda questa cosa e poi aspetto mi piace o non mi piace ok grazie vittoria bellissimo si è arrivata adesso abbiamo avuto una discussione bellissima di vittoria riguarda questa cosa ciao elena ciao loredana in ritardissimo beh magari ti riascolti tutto ok ragazzi sesto punto si la sorgente di quello che ti piacerebbe ricevere dagli altri scusate mia dice insomma sistemiamo la famiglia sistemiamo la società brava mia esatto la nostra grande famiglia e la società l'umanità ma possiamo solo iniziando sistemando la nostra famiglia intima assolutamente questione di sentire quei sensi assolutamente chiara sì esattamente la nostra vita non ha senso sapete perché è facile perché non ascoltiamo i nostri sensi noi facciamo quello che i nostri sensi non vorrebbero facessimo per quello che la vita non ha senso la risposta è già qua è tutto così semplice infatti ci diciamo la mia vita non ha senso ehi perché non ascolti i sensi perché ascolti la ragione ascolta i sensi e la vita ha senso scusate io dico che vado di pancia e devo dire che funziona sì funziona alle volte mi piace alle volte no come si deve fare eh dipende brava se non ti piace è perché vai contro veramente il sistema vai contro a certe cose è perché c'è attrito e lo so non è sempre facile non è sempre facile quello che dico a volte ci sono dei compromessi ai quali non si può scappare Oriana dice cercare di comprendere le dinamiche che spingono i familiari a certi comportamenti aiuta tanto a migliorare i rapporti ci vogliono lacrime sudore e sangue però per arrivarci sì a volte sì Oriana è vero è vero sono lavori veramente quelli poi a sistemare cose familiari sistemi che risolte di solito sì 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 non sempre ma si piange tanto però credetemi il pianto è una cosa catartica e molto benefica noi quando piangiamo rilasciamo prolattina che è un ormone che ci fa star bene ci rilassa il pianto lo sfogo più naturale che c'è se vi sentite di piangere mai non fatevi problemi se potete piangete sfogatevi il pianto è sintomo di benessere e di forza interiore vuol dire che noi siamo capaci di dire sì adesso mi sento emotivo di piangere comunque il sesto ecco punto è sì la sorgente di quello che ti piacerebbe ricevere dagli altri vi spiego perché l'ho creato perché è importante a volte le persone a me capita io ero uno di questi per esempio che vi dicono ma non mi chiama mai non mi chiama mai non mi cerca mai e qua e là ma io lo facevo magari no oppure una persona è ma lei non è affettuosa non è generosa non è qua o né là anche qua se ho aspettative non sono io il promotore è una battaglia persa ma quando noi chiediamoci quello che vorremmo dagli altri se noi diventiamo la sorgente se sono io quando io vorrei se io volessi che una persona fosse più generosa con te me e io intenzionalmente sono quello che fa un qualcosa di generoso è potentissima la cosa in magia pura perché primo mi rendo conto mentre divento generoso per esempio o simpatico che ne so che io non ho più bisogno che l'altra persona esprima quella qualità verso di me pensavo e quella l'illusione che di averne bisogno perché pensavo non ne appartenesse ma in effetti io volevo ricevere quella cosa perché l'avrei voluto farla mia ma quando io la faccio mia non ne ho più bisogno e divento il donatore ma quello cosa succede poi che che produce cosa una un riscontro una risposta che è ancora più generosa di quello che sono stato io e innesco un circolo virtuoso e la vita si fa una goduria perché poi capiamo che noi siamo i creatori di quello che pensavamo di volere ma noi siamo i generatori noi siamo i creatori è bellissimo quando capiamo questa cosa per cui si la sorgente di quello che vorresti ricevere dagli altri poi con liberatori dice sì chiara dice mi piacerebbe ricevere dagli altri un'altra aspettativa e sì chiara tu chiediti cos'è che ti piacerebbe ricevere dagli altri fallo metti la prova e fai sì tu la promotrice se allora se volessi che gli altri ti contattassero io ero il maestro di questa cosa cavolo prendi il telefono e telefona tu per prima o se volessi che gli altri siano più gentili più affettuosi in una reazione fai tu sì tu la prima e poi vedi quello che succede sì l'invito è quello mettere in pratica queste cose qui c'è poco da contestuali sconte con intellettualizzare giuliana dice comportati con gli altri come vorresti si comportassero con te esattamente 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 il sesto è meraviglioso anche a me piace sì comunque sia sorgente di quello che vorresti che gli altri ricevere dagli altri settimo settimo fatti domande senza pensare di dover sapere le risposte le troverai ripeto fatti domande senza pensare di dover sapere le risposte le troverai tutte le persone che hanno raggiunto tanto nella vita sono persone che hanno tutte una cosa in comune io ne nomino sempre questi perché sono pubblici Einstein Freud Steve Jobs o che ne so sono particolarmente tutti i geni sono persone che si facevano tante domande e non pensavano di sapere le risposte facevano le domande poi la vita il campo intelligente gli dava le risposte ma le risposte non cerchiamole nel nostro amante razionale perché non c'è non ci sono ok cioè cui facciamo domande e sappiamo che la risposta la troveremo siamo sempre qua al stesso discorso la vita ci darà tutto quello che vogliamo Rosanna dice se una persona mi contatta senza un buongiorno alla cafona io rispondo sempre con buongiorno grazie fantastico Rosanna esattamente perché tu potresti ben dire tiè perché non mi saluti o dare pane pane al vino al vino invece no venì esatto esattamente Elena dice non bisogna mai aspettarsi niente da nessuno è una bella regola per vivere bene assolutamente sì Francesco dice me first yes buona Grazie dice però ci sono certe persone ottuse che ti reputano ipocrita o c'è sempre qualcuno che ci reputa come ci reputa sì lasciamo il tempo alle risposte arriveranno assolutamente chiara però le domande io l'invito è questo fatti domande fatti domande fatene tante e poi dimenticati dimenticati anche di essere fatte ma fatele Giuliana dice ho ricevuto risposte in questo periodo a domande che mi ero posta da piccola verissimo fantastico mi fa piacere e questo era il 7 l'otto punto otto ci siamo quasi coltiva la gratitudine avrai sempre ciò di cui necessiti coltiva la gratitudine avrai sempre ciò di cui necessiti sono sicuro che tutti qua sapete di cosa si parli l'energia l'emozione la vibrazione che manifesta più velocemente il tutto e la gratitudine il dire grazie anche per cose che magari non sappiamo ancora neanche da avere ci 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 mette in uno stato d'apertura d'animo così positivo così benevolo che crea manifesta qualcuno qualcosa per cui essere che conferma questo nostro stato d'essere per cui si coltiva la gratitudine qualsiasi cosa qualsiasi cosa il fatto di essere vivi vivo il fatto di essere qua a comunicare condividere queste cose con noi insomma anche lì è un allenamento che piano 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 cresce 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 e wow e la nostra vita è cambiata perché noi abbiamo scelto di essere grati invece di lamentarci e so che funziona perché ero così io ero una di quelle persone che le mette mi mettevi che poi non è proprio così non è che fossi proprio antipaticissimo io conoscendo è che fosse un'altra persona però io nel mio non lo davo tanto a vedere ma stavo male e a volte comunque litigava anche apertamente ma comunque io mi mettevi magari in un posto dove non ero mai stato io ero molto più propenso a pensare alle 45 cose che non mi piacevano che altro adesso no anzi adesso cerco e guardo le cose che mi piacciono e cambia tutto quando facciamo così abitudinariamente ovviamente voglio leggere allora io ricevuto risposte si chiara dice me ne faccio troppe luca la mente scoppia bella chiara di domande a buono buono veramente beh ma allora magari fatene un po di meno grazie dice ringraziare sempre per ogni cosa grazie dice sì la gratitudine verso tutte e tutti è potente ciao valentina giuliani dice ogni mattina ringrazio per tutto anche per le cose poco piacevoli ed è stupendo fantastico se riesci a essere grata anche le cose non ti piacciono è ancora meglio ancora meglio elena dice io ringrazio anche aspetta io ringrazio anche quando non ce n'è bisogno tanto scusa io ringrazio anche quando non ce n'è bisogno tanto che le persone mi dicono e di cosa buono buono bello quando è così vuol dire che che la tua attitudine è proprio se in uno stato di gratitudine costante fantastico ma in effetti e ti chiedono di cosa ma lo stato secondo me più sublime dello star bene è proprio quello quando magari ti vedono felici star bene chiedono ma ma perché stai bene perché sei così felice e tu ci pensi non lo so perché no fantastico siamo sempre lì non hai dove un motivo perché quando abbiamo un motivo per star bene ma ci sta anche ci sta voglio dire perché che ne so è successo questo è successo quello è una cosa condizionale condizionale cioè quando queste cose non succedono che può succedere noi non siamo più così felici per cui buono oriana dice sì questo lo faccio mi piace c'è sempre qualcosa per cui essere grata ogni giorno sì in effetti c'è sempre c'è sempre c'è sempre chiara grazie di poter ascoltare quanto bene fa grata di poter ascoltare grazie ascoltare queste cose maria dice essere grati e non dare per scontato quello che abbiamo esattamente il dare per scontato è proprio uccide la spontaneità uccide la presenza uccide la gratitudine esatto noi diamo le cose per scontate ma la vita va a essere deve essere pagata in pieno non scontata cioè apprezziamola come se stessimo pagando in pieno non che sia scontata perché in effetti è così la vita va vissuta al 100 per cento che con lo sconto poi si sa le cose con lo sconto alla fine non l'apprezziamo neanche mai tanto non facciamo economia di emozioni allora dice si ringraziare sempre ogni giorno fantastico o ce l'abbiamo fatta abbiamo ancora 11 minuti e siamo arrivati al decimo punto no scusate e questo era l'ottavo buonissimo nono punto che ricordati che gli altri ti incontrano principalmente per essere riconosciuti ripeto ricordati che gli altri ti incontrano principalmente per essere riconosciuti cosa intendo qual è il miglior dispetto che possiamo fare a qualcuno si dice il miglior dispetto è l'indifferenza in effetti c'è una cosa che nessuno di noi veramente non può sopportare quello di essere ignorata ma sapete che ci sono persone che scelgono di togliersi la vita perché non si sentono viste non si sentono riconosciute e si tolgono la vita questo per dirvi quando vedete una persona ma l'invito qui è anche proprio ma tutti perché comunque anche il familiare o l'amico l'amica o il partner o che che con i quali ci siamo e non ci siamo e non si sentono riconosciuti non stanno bene e comunque neanche noi ma anche l'invito qua anche la persona che vediamo al supermercato o in coda da qualche parte anche solo quel ma basta una frazione di secondo la guardiamo lo guardiamo negli occhi con presenza con presenza sapendo che c'è un'entità la che l'abbiamo visti o sono cose importanti sono veramente cose importanti a tutti piaci essere riconosciuti voglio solo leggere qua prima di continuare sì però non bisogna raccontarci la con la brava certo con la gratitudine nel senso che deve essere sincera e sentita col cuore e non certo esattamente no qui non si parla di far finta certo deve essere sentita sì grazie per sottolineare grazie la dice non era scontato che tu fossi non era scontato che tu fossi su ponti di luce o della sì no non era scontato niente è terribile indifferente sì sì c'ho tempo voglio condividere una cosa con voi che mi ha ha confermato il fatto che questa qua è un punto che volevo mettere tra i dieci importante io non so se la conoscete va bene non importa elisabeth cabler ross è una psicologa psichiatra forse era anche ma chi si importa comunque una psicologa sicuramente elisabeth cabler ross forse ancora viva americana avevo visto un video dove lei parla di questo di questo bambino che si era tolto di questa seduta che aveva avuto con la mamma di un bambino di 11 anni che si era tolto la vita la sera prima di quando lei aveva visto la mamma mi viene faccio fatica a parlarne allora la mamma le diceva questo per dire il sistema dove viviamo la elisabeth elisabeth dice alla mamma ma mi dica un po cosa è successo e la mamma gli fa era un bambino normale stava bene faceva sempre quello che volevamo noi e elisabeth dice ok ma cosa è successo la sera prima perché lui il mattino si è sparato in casa una famiglia americana ma la pistola il mattino si è sparato dice ma cosa è successo la sera prima e la mamma gli dice non è successo niente di niente di strano tutto normale elisabeth dice ma mi dica quello che è successo e lei le dice è arrivato da scuola e eravamo a pranzo a cena c'era il papà la mamma i fratelli le sorelle comunque erano una famiglia c'era non solo l'unico non era l'unico figlio e aveva detto che ha portato era preva aveva preso un voto che non era bello non era sufficiente e allora hanno deciso la famiglia il papà ha detto a tutti di non guardarlo di ignorarlo di non guardarlo assolutamente di non comunicare con lui immaginate un bambino di 11 anni in famiglia e non gli hanno non è chiesto né perché ha preso il brutto voto né che voto niente e lui non dice vi immagina mangiare come fa a mangiare un bambino di 10 anni non proprio non lo ignoravano finita la cena è andato in camera sua la mamma per fargli per rincarare la lezione che volevano dargli non è andato a dargli la buonanotte per cui l'ha ignorato lui al mattino si è suicidato quello il potere del non essere visti del non essere riconosciuti ma questo per dire ma tutte le persone che e lo dico sente motività perché mia mamma non si è suicidata ma voleva morire e si sentiva molto sola e non si sentiva riconosciuta da nessuno e da niente questo appunto per dire che riconoscere le persone è importante basta decimo punto scusate poi leggo decimo punto coltiva interessi qualcosa che ami fare e ti soddisfa questo è facile capire capire coltiva interessi qualcosa che ami fare che ti soddisfa ci teneva a metterlo dentro anche perché sapete qual è l'antidoto per la depressione qualsiasi tipo di depressione e l'azione ed è l'azione riguarda qualcosa che vogliamo fare e che ci piace facile a dire se difficile a farsi ma una cosa molto benefica molto sana per vivere bene e lo scoprire un qualcosa che ci soddisfa e se poi se riusciamo con la soddisfazione scusate anche avere un'emozione cioè un amore per quello che facciamo siamo a posto e già ha un effetto benefico su di noi che è incredibile e sugli altri come sappiamo scusate voglio leggere tutto prima di finire se ce la faccio abbiamo sei minuti non scontato assi e terribile indifferente sì basta un sorriso la dice assolutamente basta un sorriso a volte ma possono cose importanti chi non dice sorriso che che si dona spontaneamente regala sorrisi magnifici si si riconosce e si viene riconosciuti esattamente giuliana proprio sono dinamiche inconsce vibrazionali che sono però potentissime puoi cambiare l'atmosfera in un ambiente cavolo siamo così potenti l'atmosfera magari è giù 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 arriviamo noi basta un componente di quel sistema che fa partire la scintilla ma perché perché in tutti c'è quella parte viva è bellissimo a rita dice ho letto i libri sì di risa per caberosa è veramente fantastica è una signora wow mari ciao ciao mariello baba dice ricordati che gli altri ti incontrano per essere riconosciuti quando accadano il contrario di non essere riconosciuti bello baba a me non ci hanno riconosciuti ma tu sei tu sai chi sei e quanto vali anche qua non hai poi così tante aspettative perché gli altri ti debbano riconoscere perché tu ti riconosca rendo l'idea ovviamente fa piacere a tutti essere riconosciuti ma se se tu ti riconosci abbastanza sai chi sei quanto vali e se gli altri non ti riconoscono vabbè hai capito non so come dirti fatti due domande se veramente la cosa ti dà così fastidio ma nel senso fatti domande perché perché qui l'invito mio è che e che devi riconoscerti tu per prima è bello che gli altri ti riconoscono ma l'unica che può riconoscere sicuramente sei tu è comunque è come e la vita ti riconosce instaura questa relazione con la vita io da quando ho instaurato una relazione con la vita certo che mi piace che gli altri mi riconoscono mi riconoscano ma è diverso non ho bisogno di essere riconosciuti degli altri così tanto come prima ne avevo lasciam perdere valeria dice grande luca sei bravissimo ti voglio ti voglio in sardegna così svegliamo un po di gente dai veri guarda io sono mai stato in sardegna valeria e potremmo organizzare qualcosa in sardegna oriana dice si si interessava alle esperienze di pre morte bra esatto oriana si elisabeth cabreroz esatto aveva tanto a che fare con le esperienze di morte ma roba da matti grazie la sì ma la roba da matti in effetti il fatto che la mamma diceva era un bambino normale certo faceva tutto quello vogliamo e non è successo niente di fuori via per loro è normale ma viviamo in un sistema purtroppo così competitivo che è così che va in effetti c'è tanta gente che soffre cavolo comunque terribile storia si elena dice l'indifferenza è la peggior cosa si si è veramente terribile giuna dice a me è successo di essere punita più volte in quel modo essendo volontariamente ignorata fa un male pazzesco si che dolore col povero non ci volevo pensare si mia ti abbraccio a volte anche io ti abbraccio mia grazie abbiamo ancora due minuti io amo far shopping bellissimo io amo fare shopping raff dice che bella trasmissione che bella persona che sei la prima volta che ti vedo grazie grazie raff ti ringrazio mi fa piacere che ti sia piaciuta francesco dice sarebbe da scrivere la lista per consultarla risveglio si ma in effetti adesso poi bella copio in collo sul sul messaggio e si ma stampate ma se andate su youtube vedete luco celli la ricetta del benessere vabbè dovete lasciare la vostra email per riceverla ma vi scaricate il pdf ve l'appiccicate sul frigo infatti quando la chiamavo la ricetta dicevo da leggere almeno tre volte al di adesso invece dico da leggere finché non diventa un'abitudine e si comunque si queste cose si interioreggiano così l'ho scritta bene puoi scrivere la lista si la lascio dopo vabbè io saluto spesso le persone per strada rimangono sorpresi sogna dice si le spiace diranno ma questa qua è fazza grazie luca è passata velocissima già un'ora e mezza solo un minuto ciao buonasera ciao 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 grazie dice io ho capito che restare un po nel mistero funziona mai esporsi troppo a bella questa potremmo più parlarne ho capito che restare un po nel mistero funziona mai esporsi troppo l'ora dice sarda anch'io ah siete nemmeno due sard assolutamente è tutto collegato a quello che hai detto prima no non mi interessa forse un tempo ora sono cresciuta non ne ho bisogno vieni anche a Roma e ma non lo so io andrei un po dappertutto non so mai andare mi piacerebbe comunque quando finisce sto questo non ci sono più restrizioni mi piacerebbe sì iniziare un po a girare l'italia a fare qualcosa che ne so però un giorno magari sì non lo so allora organizziamo in sardegna dai se sai se sai come dove quando possiamo pensare assolutamente paolo dice per il covi in chiesa non si può più fare lo scambio della pace ma si può fare con lo sguardo e anche più forte bello che bello bellissima grazie paola violetta o ragazzi ci dobbiamo salutare sono le otto non ho letto tutto ma adesso leggo tutto prometto se ci sono delle domande fatele o è volata veramente un'ora e mezza vi voglio infinitamente bene e bon ci vediamo la prossima diretta è italiana il prossimo venerdì che mi pare da venerdì prossimo invece delle 10 e mezza sarà dalle 10 alle 11 mezz'ora prima e parleremo sì dell'importanza della famiglia e dell'armonia bene l'armonia in famiglia ciao grazie 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 ciao buona serata